FESTIVAL DEI MALATI DI CUORE La Comparini sembra li abbia querelate I veri amanti cardiopatici siamo noi, ha detto Magda era guaribile in appena 30 giorni Non vale Qualcosa che vale il film ha valso a Rock Hudson detto dai romani Pistecone una medaglia d'oro il premio di Photoplay Anche Deborah Kerr vince una patacca autentica essendo in America Steve Allen gliela punterà sul petto A proposito Marisa Allasio è tornata in Italia dopo il suo viaggio in America Gli americani ce l'hanno restituita così L'abbiamo sottotitolata per maggiore comprensione nella lingua ufficiale del cinema italiano Gli americani ce l'hanno restituita così Gli americani ce l'hanno restituita così